Ci sono pittori che creano lo stile del loro tempo. Ci sono pittori che lo stile del loro tempo lo distruggono. Jacopo Robusti, il Tintoretto, la storia dell'uomo che osò sfidare Michelangelo e Tiziano. La pittura mi resisteva. L'ho uccisa. Qual è la differenza tra un artista e un genio della pittura?